Non è vero. E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Deep and Crimini, io sono Palla. Rido perché su Twitch, chi è su Twitch, perché siamo live anche su Twitch, ha visto che mi sono un attimo impappinato nell'introduzione a questa puntata. E siamo live, benvenuti a tutti, benvenuti in un nuovo caso, caso di Davide Rossi. Caso un po' speciale, ciao Lucia, che ci segue dal piano di sotto. Caso un po' speciale, spiegheremo perché. Perché, innanzitutto, volevo ringraziare tutti per, appunto, tutti gli ascolti che stiamo facendo con Deep and Crimini, con Deep and Scienze, con Deep and Giallo, con Deep and Religione, anche Deep and Come Fare Podcast. Quindi, grazie a tutti, grazie a tutti del supporto e continuate così perché davvero ci cambia la vita. E quindi, grazie. Abbiamo comprato due videocamere per aumentare la qualità complessiva su Twitch. La mia non è ancora, cioè, è arrivata, ma c'è la Zap e quindi ho ancora la mia fantastica webcam che non mette a fuoco. Ma tra qualche settimana mi vedrete in 4K. E voglio dire, chi è che non vede l'ora di vedermi in 4K? Abbiamo speso un sacco di soldi per queste cose, ovviamente. E quindi, se volete darci un piccolo contributo per poter rientrare in piccolissima parte di questo investimento che abbiamo fatto, ovviamente per voi potete donare su Twitch con una donazione o con un abbonamento gratuito se avete Amazon Prime oppure potete, appunto, sul nostro sito trovate tutte le indicazioni per farci una piccola donazione che ci serve, come sempre, non tanto a fare la bella vita, che non facciamo, anche con l'arte carpelli che ho, e più che altro, appunto, ci serve a migliorare la qualità complessiva del prodotto che offriamo. Quindi, chiusa la parola, ovviamente potete farlo anche gratuitamente, supportarci, come? Andando su Telegram, dove discutiamo sempre dei casi, andando su Instagram a follow up, a metter like, a commentare i post, ecco, questo diciamo che ci aiuta incredibilmente tanto a crescere. Chiuso questo discorso che ogni volta faccio e che capisco scocci, ma ci aiuta. Siamo a... c'è un'altra... ok, fine. Andiamo al succo subito della puntata, sono le sette e un quarto di domenica, vi lascio la vostra cena tra poco, adesso io pensavo di chiudere per le otto, in modo che vi lascio i vostri impegni serali della domenica prima di un lungo lunedì di lavoro. Allora, caso David Rossi. Adesso prima ve lo racconto, con calma, ve lo racconto, ovviamente a grandi linee, e poi vi racconto perché l'ho scelto. È un caso noto, ovviamente, non è un caso particolarmente sconosciuto, come un altro caso che avevo intenzione di portare. È un caso noto su cui, diciamo magari dopo, su cui le iene si sono lanciate, si sono buttate e hanno creato, non solo le iene ovviamente, ma hanno creato una cosiddetta contronarrazione. Cioè una narrazione alternativa rispetto alla versione ufficiale. Versione ufficiale che analizzeremo e sviscereremo profondamente, sia attraverso la sentenza sostanzialmente, sia attraverso un testo che, adesso poi vi parlo dei due testi che utilizzeremo proprio per approfondire il più possibile, per ragionare e per confrontarci sul caso. Il caso David Rossi è un caso, uno dei più interessanti, che abbia mai trattato. Torno all'ufficio, che è un luogo abbastanza inquietante, ci pensavo stamattina, mentre leggevo, mentre mi informavo, mentre studiavo, sto facendo le virgolette, no? Perché in poco tempo, io da agosto scorso, ho parlato di, ovviamente, simonetta Cesaroni e Via Poma, che è una questione molto attuale, non so se state seguendo tutti gli aggiornamenti su Via Poma, sembra che ci sia un... come possiamo dire, un... un aggiornamento... un aggiornamento fondale... scusate, mi stava chiamando mio fratello, mi sono spaventato da morire. Ci sia un aggiornamento sul killer, che sia una persona del palazzo e non però un abitante del... scusate, un lavoratore dell'IAG, quindi però ne parleremo quando ci sono degli aggiornamenti. Poi ho portato il caso di Nadacella, caso anche lì avvenuto nel suo ufficio, e adesso parliamo di David Rossi, suicidio o omicidio, poi cerchiamo... questo sarà chiaramente l'argomento fondamentale in parte di questa puntata, sicuramente della prossima puntata e delle prossime puntate. Cercheremo di capire che cosa possa essere successo. Non è facile ovviamente da capire, è un caso complesso, è un caso con mille sfaccettature, è un caso che più lo leggo e meno certezze ho, anche se all'apparenza sembra una situazione abbastanza semplice. Ovvero, cosa intendo dire sulla questione. Allora, partiamo da, come sempre, come faccio sempre su Deepin Crimin. Partiamo non dal giorno della morte di David Rossi. Morte, tra l'altro, e questo credo sia un unicum, ci sono due situazioni uniche in questo caso. Il primo è che è un suicidio, verosimilmente, o un omicidio. Comunque, se trattiamo un suicidio, che credo di non aver mai trattato, e la seconda cosa strana, diciamo, appunto, l'unicum, è, non me lo ricordo, mi sono perso, stavo dicendo una roba, non me lo ricordo, vabbè, poi lo, poi ci pensiamo. Comunque, siamo al 19 febbraio del 2013, quindi non partiamo dal 6 marzo, che è la data in cui, ah, mi è venuta in mente qual è la seconda particolarità. La seconda particolarità è che abbiamo il video della morte di David Rossi. È un video, ovviamente, pubblico, abbiamo gli ultimi istanti di vita di David Rossi, e quindi anche quello verrà analizzato. Torniamo però a noi. È il 19 febbraio del 2013, siamo in mezzo alla tempesta che ha, tempesta metaforica, che ha colpito la banca più antica del mondo, una delle banche più antiche del mondo, sicuramente l'orgoglio di Siena, ovvero il Monte Paschi Siena, che è una delle banche più importanti d'Italia, una delle banche più importanti del mondo, dal punto di vista storico, non tanto dal punto di vista economico, e che è in mezzo a una tempesta, sostanzialmente, che la colpisce da tutte le parti. Ci sono state delle acquisizioni di altre banche abbastanza dubbie, ci sono state delle operazioni, delle operazioni finanziarie compiute da Giuseppe Mussari, che è il capo, amico e uomo che citeremo, e che tornerà nella nostra narrazione quando Giuseppe Mussari era sostanzialmente il capo e l'uomo più importante del Monte Paschi. In mezzo a questo caos, a questa tempesta, il 19 febbraio del 2013, David Rossi, di mattino molto molto presto, lui è già in ufficio, verrà perquisito dai carabinieri, verrà perquisito il suo ufficio, verranno prelevate alcune cose, ma soprattutto verrà perquisita il suo appartamento, il suo appartamento in cui vive con la sua compagna, Donella, se non è sua moglie, è la sua compagna, e con la figlia 21enne di lei, ma non di lui, a livello biologico almeno, Carolina. Vengono perquisite, appunto, l'abitazione ed ufficio di David Rossi, e questo evento, da qui in poi sostanzialmente abbiamo il baratro, in cui cade il manager senese. Chi era David Rossi? David Rossi era un uomo senese che aveva iniziato, aveva una laurea in storia dell'arte, e aveva iniziato una carriera nell'ambito della comunicazione con una piccola, in piccolo, finché era entrato nella grande famiglia del Monte di Paschi di Siena, aveva scalato la gerarchia sociale e lavorativa del Monte Paschi, fino a diventare il responsabile della comunicazione del Monte Paschi. quindi un uomo, un manager fondamentale all'interno dell'organigramma della banca. Perché? Perché in un momento in cui il Monte di Paschi era fondamentale in assoluto perché il capo della comunicazione di una grande azienda o di una grande banca in questo caso è fondamentale. Ha maggior ragione quando sei in mezzo alla tempesta mediatica di quel periodo. Un uomo fondamentale e ovviamente braccio destro un uomo fidato amico confidente di Mussari. Cioè l'uomo che ha scatenato tutto sto casino. Io non entrerò nei dettagli del del crack no? Come lo chiamano i pagliaccioni no dai come ogni tanto viene definito non entrerò nei dettagli del crack del Monte Paschi perché non ho le competenze per farlo ma non mi interessa e non sono così convinto che dal punto di vista tecnico centrico l'omicidio ma questo è sicuramente lo sfondo dell'omicidio. David Rossi è molto colpito da dall'essere stato perquisito non viene notificato quindi sostanzialmente non è indagato per niente nonostante lui cerchi di capire attraverso qualche amico giornalista quali sono le imputazioni a suo carico effettivamente David Rossi non entrerà mai nell'inchiesta contro il Monte Paschi e all'interno di 30 procedure penali lui non entrerà mai a farne parte direttamente David Rossi però è inquieto in quei giorni dal 19 in poi si sente spiato osservato in casa hanno notato il suo cambiamento comunica poco David Rossi non è mai stato un uomo estroverso è sempre stato un uomo rigido serio serioso dedito al lavoro molto professionale molto preciso molto puntuale ma in quei giorni Carolina Antonella ma anche i suoi colleghi notano un cambiamento in lui è preoccupato è molto preoccupato in casa ha preso a fare ha preso a compiere diciamo dei gesti un po' inconsueti per esempio non è convinto che i carabinieri abbiano inserito delle microspie dentro la sua abitazione e quindi quando deve comunicare qualcosa che secondo lui è sensibile quindi è importante con Antonella o con Carolina lo scrive su un foglio una sera Antonella viene da una pericardite mi sembra comunque da una malattia è a letto non sta tanto bene e a cena sono stanno mangiando le lasagne sono Carolina e David chiacchierano del più del meno quando David tira un po' su la felpa la manica della sua felpa e Carolina nota degli strani segni sul braccio di di David distoglie subito lo sguardo fa finta di non vedere e aspetta attende la fine della cena terminata la cena Carolina con una scusa va in camera della madre e chiede spiegazione della madre di quegli strani segni Antonella è una donna che è abituata a prendere le cose abbastanza di petto e quindi convoca sostanzialmente nella sua stanza che condivide con David ma che in quel momento era sostanzialmente tutta sua perché ci passava tutta la giornata in quanto convalescente e chiede spiegazioni e David dice che in quei giorni di grande stress di grande tensione si taglia no? si taglia perché ha bisogno di sentire del dolore ha bisogno di sentirsi vivo in un certo senso ha bisogno di sentire che ancora prova dolore ha bisogno di qualcosa forse se abbiamo qualche psicologo che ci segue potrebbe magari darci qualche spiegazione più approfondita sui tagli e sui motivi di questi tagli insomma David è teso questi tagli ne sono la che si autoinflige ne sono la sua testimonianza più forte più viva David è convinto che gli inquirenti abbiano qualcosa su di lui lui è tranquillo d'altra parte perché ha la coscienza pulita sa di non aver fatto nulla di grave sa che tutto il casino del Monte Paschi con lui ha poco a che vedere ma è convinto che dentro l'inchiesta ci finirà anche lui ne è talmente convinto che arriverà a dire a un certo punto un mio amico mi ha tradito e quindi mi vogliono infilare dentro avverrà un'altra cosa grave qualche giorno prima del 6 marzo ci sarà un cda notturno di di Montepaschi il resoconto il report di questo cda finirà nelle mani di un giornalista del sole 24 sole 24 per chi non lo conoscesse mi immagino lo conoscono tutti comunque è un giornale è un quotidiano economico di stampo prettamente economico e quindi il giorno dopo fu pubblicato sostanzialmente un report del cda di Montepaschi report che era ovviamente fondamentale rimanesse segreto viene fuori che ad aver liccato cioè ad aver passato sotto banco questo report è stato David Rossi David Rossi ovviamente aumenta a dismisura il suo stato d'ansia anche perché lui sa benissimo di non essere stato lui a far trapelare quel documento ma questa cosa verrà scoperta soltanto successivamente David Rossi si sente accerchiato gli inquirenti evidentemente nota che anche i suoi colleghi sono un po' strani nonostante il progetto a cui stanno lavorando arriviamo al 6 marzo del 2013 l'ultimo giorno di David Rossi su questa terra si alza la mattina e pensa alla casa che sta costruendo in realtà non la sta costruendo la sta ristrutturando questo casale nella campagna toscana che sta ristrutturando con Antonella ci sono dei problemi con i lavori ci sono delle cose che non lo convincono chiama al telefono un suo amico un imprenditore un imprenditore che si intende di ristrutturazione e gli chiede di potersi vedere nel pomeriggio per un caffè perché voleva chiedergli un paio di cose saluta Antonella dice che si sa rivisti la sera e va a lavoro la giornata a lavoro procede abbastanza bene ma Antonella che è una donna di grande intelligenza e come tutte le donne hanno un'intuizione che un uomo non potrà mai neanche immaginare sa che David sta vivendo un periodo particolarmente complesso e chiama il fratello di David che poi vedremo Ragneri che poi vedremo che entrerà in questa storia a gamba tesa successivamente anzi è in uscita un suo libro sulla vicenda chiamerà il fratello con cui David ha un buon rapporto ma che non si vedono non si sentono particolarmente di frequente e Antonella chiede al fratello di parlare appunto con David perché in quei giorni appunto è sotto assedio effettivamente i due si vedranno per pranzo nonostante David sembri confuso infatti sbaglia per due volte il locale in cui sarebbero dovuti andare a pranzare cosa assolutamente non da David dice da una serie di informazioni il fratello di David dice che il fratello sarebbe stato operato di lavoro il pomeriggio anche se non risulta che aveva fatto una stupidata lavoro ma che avrebbe dovuto e potuto risolverla e che comunque si sarebbero aggiornati successivamente David si torna in ufficio uscirà intorno alle 5 5 e mezza per avere quel caffè con quell'imprenditore di cui parleranno di questo casale nella campagna senese ecco David Rossi dice che forse è meglio anzi scusate l'imprenditore gli dice forse è meglio che venga a vederlo questo casale facciamo un sopralluogo sabato vengo da te David Rossi aveva nel suo appartamento a Siena un tapirulano un tapirulano che gli dava fastidio perché era grande e occupava spazio e voleva portare il casale e allora propone al suo amico di vieni a casa mi dai una mano a trasportare questo questo tapirulano lo portiamo nel casale e così possiamo fare il sopralluogo quindi parlano di futuro questa cosa è interessante ci torneremo parlano di futuro anche se un futuro David non ce l'avrà perché da lì ha un paio d'ore purtroppo questa terra la lascerà per sempre David Rossi però torna alle 17.57 17.58 diciamo allarghiamo diciamo che alle 6 sicuramente è in ufficio nel suo ufficio perché una sua collega una sua sottoposta gli ha chiesto un colloquio perché c'è qualcosa che non quadra nella presentazione del 7 cioè la presentazione che avrebbero fatto il giorno dopo a Firenze per un nuovo progetto a cui David aveva lavorato molto David risponde a tutti gli interrogativi che gli pone la la collega anche se la collega dice di averlo di aver notato un David un po' più distratto del solito però se era è un periodo difficile non ci ha fatto molto caso lei poi torna nel suo ufficio uscirà notando la porta dell'ufficio di David aperta e poi sappiamo solo che poco prima delle 8 una telecamera del dell'edificio del palazzo storico di Rocca Salimbeni vedrà un corpo che cade a terra da da un piano alto un corpo che resterà agonizzante per 20 minuti che si muoverà per una ventina di minuti finché a un certo punto smetterà di soffrire per un'ora circa quel corpo non verrà visto da nessuno nonostante siamo una via in una via incredibilmente centrale di Siena Antonella la compagna si spaventa inizia a essere preoccupata non vede David tornare chiama la figlia Carolina che è all'università ed è lì vicino e dice vai a controllare David come sta allo stesso tempo Antonella ha chiamato anche un collega e aiutante braccio destro di David vanno e si precipita anche lui in ufficio a vedere cosa succede lo troverà lui agonizzante per terra ma di questo parleremo in seguito perché come verrà grazie mille Robin Mulder per la sub come verrà ritrovato le reazioni e tutto quanto sono oggi oggetto di critica e di interesse da parte dei media e non sono dei media e quindi David Rossi dal suo ufficio finisce nella via sottostante in fin di vita perché appunto resterà agonizzante per una ventina di minuti e poi è morto da subito sembra chiaro a tutti che si tratti di un suicidio ci sono tutti gli elementi che lo fanno pensare la procura indaga poi cerchiamo di capire se è bene o male e arriverà alla conclusione che David Rossi in preda a un a un accerchiamento da lui percepito ha deciso di porre fine alla sua esistenza questo è il caso in dieci minuti un quarto d'ora un caso che all'apparenza dovrebbe essere molto lontano da quello che è di pencrimini perché di misteri qua ce ne sono pochi finché le iene e non solo le iene ne parlano diffusamente io ho visto i servizi delle iene che sono i servizi delle iene nel bene nel male io non sono né un fan sfegatato delle iene neanche però un critico delle iene perché le iene hanno comunque secondo me il pregio di far parlare no le persone di determinate vicende che rischiano ogni tanto l'oblio ma il motivo vero che mi ha portato a parlare di questo caso è il seguente e adesso chi ovviamente chi è su twitch è avvantaggiato il primo è questo libro che si chiama cronaca di un suicidio di raffaele ascheri e il secondo è la verità sul caso david rossi di davide vecchi tutto quello che ancora non sapevamo questi due libri che io ho ordinato recentemente su amazon e che mi sono arrivato a casa incredibilmente veloce in maniera incredibilmente veloce sono un sono un qualcosa che per adesso non avevo mai vissuto in questa maniera su di pen crimini ovvero provo a spiegarmi voi sapete io consiglio sempre la lettura dei libri che sto leggendo per quando mi informo dei casi di solito leggo un libro sulla vicenda anche perché non ce ne sono moltissimi penso a nadacella penso alle bestie di satana penso a altri libri penso a erba penso a sto guardando i libri penso a meredith kerch per solito è un libro da lì trago delle informazioni poi magari leggo la sentenza una serie di cose questi due libri invece sono esattamente uno l'antitesi dell'altro perché perché il nostro amico davide vecchi è assolutamente convinto che davide rossi non si sia suicidato ma che qualcuno sia entrato in quell'ufficio ci sia stata una discussione collotazione o comunque ci sia stato sia successo qualcosa e che una o più persone abbiano lanciato il corpo di davide rossi dalla finestra raffaele ascheri invece è convinto che la procura caraca di un suicidio lo faccio vedere entrambi così almeno nessuno può dire che raffaele ascheri invece è convinto che si tratti del più classico suicidio annunciato cioè che c'erano tutti gli indizi gli elementi e i come possiamo dire i campanelli d'allarme per il classico suicidio ed entrambi io adesso poi vi dico come come si staggiene tutto devo dire che sono molto 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 convincenti quando sono arrivati tutte e due a casa io mi sono trovato di fronte a un problema ovvero quale inizio per primo perché è chiaro che finisco di leggere quello su di raffaele ascheri quindi quello convinto sulla tesi del suicidio e mi convinco lì con la tesi poi leggo l'altro mi convinco magari dell'altra tesi o no allora ho deciso per fare una cosa che sto detto non faccio ma di leggerli entrambi insieme cioè di leggerlo un capitolo di ogni libro per volta per adesso sono a pagina 50 di ogni libro più o meno 40 di uno e sì 38 39 dell'altro comunque sto leggendo più o meno un capitolo una quindicina di pagine per uno e devo dire che è un esperimento assolutamente interessante se qualcuno di voi ha una trentina di euro da buttare potrebbe provare a farlo e poi mi fa sapere nel senso che ho letto il primo capitolo ho iniziato da questo da quello cronaca di un suicida denunciato e dopo aver letto le prime 25 pagine ho pensato questo è il più classico dei suicidi non posso farci un podcast ho buttato via soldi per i libri sono un cretino poi ho letto l'altro ho detto ma questo è un omicidio sicuramente David Rossi è stato lanciato i servizi segreti le cospirazioni la P2 e via così no nel senso che adesso a parte gli scherzi è ovvio che grazie a tua sorella per la sub no per il follow devo dire che entrambi sono molto convincenti in quello che dicono e come lo dicono e mi affascina in maniera tremenda proprio questo gioco cioè come un fatto oggettivo quindi quello che è accaduto il 6 marzo del 2013 in quell'ufficio possa essere letto in due punti di vista diametralmente opposti ovvero da una parte abbiamo David Rossi che è stressato ha cerchiato tutto quanto e decide di buttarsi giù da un'altra parte abbiamo David Rossi che per una serie di motivi capro espiatorio ha visto cose che non doveva vedere pinco pallo pinco palla pinco palla con una serie di motivi che ci sono si viene lanciato sostanzialmente da un balcone dalla finestra del suo ufficio facendo credere a tutti che appunto si è trattato di suicidio che è anche un po' la tesi delle Iene che è la tesi di molte persone tra cui la tesi di Antonella la tesi di Carolina la tesi di della mamma di David Rossi e del fratello di David Rossi tutti dicono tutte queste persone dicono che David mai e poi mai si sarebbe suicidato e questo è molto interessante secondo me David Rossi noi abbiamo tantissimi elementi questo non è un caso dove dobbiamo ragionare sul poco che abbiamo è un caso dove dobbiamo secondo me togliere un caso dove per arrivare al cuore di questo caso dobbiamo togliere dobbiamo grattare via tante voci tanti indizi che non sono indizi prove che non sono prove è un caso su cui si è indagato tantissimo e ancora oggi si indaga per questo che è un'altra cosa la terza cosa strana di nuova rispetto agli altri casi con il trattato c'è una commissione parlamentare istituita nel luglio del 2021 che indaga su questo omicino ancora oggi se voi andate a vedere se voi scrivete David Rossi ci sono articoli che dicono le cose che non sapevamo di David Rossi dei 5 giorni fa 6 giorni fa è un caso che è chiuso ma è ancora aperto io ho deciso di portare questo caso perché io sono convinto che non si arriverà a una soluzione mentre non ho mai creduto che il caso di Via Poma fosse chiuso nel senso che io sono convinto che prima o poi da quello che sembra fuori uscire da una serie di elementi sembra che la soluzione al caso di Via Poma sia effettivamente vicina o quantomeno non la soluzione definitiva ma un nuovo una svolta ecco su un possibile nuovo colpevole mentre non ho la percezione di come in questo caso che ancora conosco in maniera abbastanza superficiale devo dire quindi metto le mani avanti io sto leggendo questi libri ho letto parte della sentenza ho letto i miei 15-20 pagine della sentenza ho visto video però non posso dire di conoscerlo ancora approfonditamente questo io metto sempre le mani avanti perché io poi come sempre imparo con voi cioè preparando ogni puntata studiando di settimana in settimana approfondisco la mia conoscenza sul caso ma adesso non posso dire che sia un caso che conosco in maniera approfondita ma sicuramente c'è tantissimo di cui discutere ma tantissimo di cui discutere dalle lettere di addio che scrive davvero si lascia tre lettere di addio però le lascia nel cestino appallottolate a il muro della sotto la finestra che viene analizzato e viene fatta un'autopsia del muro dice uno dei due libri al suo ufficio al bagno del suo ufficio alle telecamere alle dichiarazioni del portiere a quello che prendono le telecamere e a quelle che non riprendono le telecamere ai segni strani sul corpo dei riderossi ai segni strani sui vestiti dei riderossi c'è tutta una serie di elementi ci sono tantissimi elementi in questo caso e questo caso secondo me è ancora più affascinante degli altri perché gli altri di solito il punto è è stato A o è stato B e dobbiamo capire se è stato A è stato B qua dobbiamo fare un passaggio ulteriore non dobbiamo soltanto capire chi è stato ma dobbiamo capire se la vittima sia suicidata e quindi dobbiamo analizzare anche la sua psicologia e la psicologia del di ciò che ha lasciato cioè di come è stato compiuto questo gesto l'anatomia di questo suicidio ma allo stesso tempo dobbiamo anche capire se ci sono degli elementi che possono farci pensare che sia un suicidio un po' strano e che quindi forse è talmente strano che vuoi vedere che non è stato un suicidio ma che è stato un suicidio figurato cioè qualcuno che voleva far vedere che era un suicidio ma che non è un suicidio ecco io ad oggi ho un'opinione sulla vicenda che ovviamente come sapete io cambio idea ogni dieci minuti quindi può essere che chiudo la puntata o ho già un'altra idea ho un'opinione sulla vicenda quindi vediamo come cambierà tutto quanto ma nonostante la mia opinione sulla vicenda sono convinto che ci sia spazio di discussione in questo caso ovvero che ci siano degli elementi convincenti da entrambe le parti per adesso mi convincono di più degli elementi rispetto ad altri ma non è un grosso problema quindi ci sono degli elementi convincenti da entrambi i lati e questo quindi tutte e due le parti secondo me hanno un motivo di come possiamo dire di di parola hanno un motivo di sostenere le proprie tesi e lo fanno in maniera buona e quindi questa cosa è perfetta per di ben crimini ed è perfetta per discuterne lungamente insieme non la voglio fare troppo lunga oggi io vi dico già l'introduzione di solito è sempre la puntata un po' più breve anche perché volevo appunto semplicemente introdurre la puntata poi settimana prossima a Pasqua ci sarà la puntata pasquale che spero di regalarvela un po' più lunga del solito vorrei arrivare intorno all'ora l'ora e mezza di puntata dove appunto per sviscerare tanti argomenti nuovi vi dico soltanto che è un caso dove dovrete seguire molto attentamente molto andremo molto nel dettaglio perché questo è un caso di dettagli è un dettaglio è un caso strano ok è un caso dove dove tutto sembra evidente abbiamo un video di un corpo che cade abbiamo una lettera di suicidio abbiamo dei comportamenti strani i giorni prima tutto farà pensare al suicidio eppure e di questo almeno di questo devo dare atto a Davide Vecchi qualche dubbio ogni tanto ci viene perché ci sono degli elementi per esempio vi dico quello che a me così colpisce di più per esempio nel video noi vediamo il corpo che cade che agonizza una ventina di minuti e dopo venti minuti cade qualcosa dall'alto dopo il corpo è per terra ormai è morto credo non si muove più e dopo venti minuti cade qualcosa cade qualcosa che poi verrà identificato come l'orologio di David Rossi che lui non aveva il polso perché ha perso ma non l'ha perso nella caduta come si immaginava no perché la gente David fu trovato con appunto la cassa dell'orologio staccata rispetto al cinturino con un segno anche sul polso e si pensava che l'avesse perso nella caduta ma noi vediamo un video in cui c'è proprio un oggetto che è molto simile a una cassa di un orologio e poi cade esattamente dove aveva trovato ma è creduto venti minuti dopo già questa è una cosa strana per dirne una ok quindi ci sono tutta una serie di cose un po' strane che vanno approfondite sicuramente di sotto scusate c'è un casino di sotto non ho capito cosa sia ma va bene così e quindi ci sono degli elementi strani ci sono degli elementi che ci fanno pensare ci fanno ritenere che David non si sia non si sia lanciato di sua volontà di spontanea volontà ma che sia stato lanciato ci sono degli elementi e ripeto la famiglia di David lo crede in maniera ferrea io capisco anche che le famiglie vogliano sempre credere che il proprio caro non si sia ammazzato perché in un certo senso è un fallimento anche personale quando tuo papà o tua quando tuo papà o tua mamma si si buttano giù però alla fine penso che la cosa fondamentale per noi sarà cercare di risolvere questo questo caso io vi lascio con questo con questa puntata con queste cose perché penso di aver già gettato abbastanza carne al fuoco nella prossima puntata cercheremo di capire quali sono le tesi di chi parla di suicidio e quali sono le tesi di chi parla di omicidio e da lì in poi svilupperemo questo caso che vi prometto sarà uno dei casi più interessanti mai trattati da Deepin Crimini io vi saluto e vi ringrazio vi auguro una buona domenica e ovviamente una buona settimana ci vediamo domenica prossima a Pasqua per una nuova incredibile puntata di Deepin Crimini un saluto a tutti ciao grazie a tutti